Tra intrappolati, nei suoi assurdi giochi, vuole farci perdere a qualunque costo, rispetta le regole del gioco della memoria, pruzza il profumo su di te, poco poco poco, sta leggendo qualcosa, ciao Isabella, sei davvero forte e speciale, visione, dottor timoti, oh il dottor timoti è innamorato, è una cosa assurda, non sono innamorato, non lo sai ma questo qua è il gioco della memoria, che ansia che ansia che ansia, abbiamo parato, se se ne accorge lo slime, ce l'abbiamo fatta, che cosa è successo qui? Ops, si prego, abbiamo vinto, non poterlo, ti prego domini liberami, fai qualcosa, non bene, sono ammanettato, non posso nemmeno muovermi tanto bene, dai fai qualcosa, non stai lì impalata, non stai lì impalata, siccola, 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 dai, Nick liberami, eric sta un po calmo, combinerai qualche danno, quante volte devo ripetertelo ancora, non sono stata io, non so come liberarti! come ci sei finito così, guarda che in più calmo, o peggiorai soltanto la situazione, e adesso come ti liberi? Dolore, dolore.. Eric, calmati, calmati, adesso cerchiamo di capire come fare, cosa poter fare, insomma.. eh.. oh no.. oh no.. no, 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 è un altro piede che vuoi uscire, ok, puoi farcela, tirati su, cerca di farci su.. ah! Beh, la situazione è questa ragazzi, stamattina eric si è svegliato ammanettato, avete capito bene, si era addormentato sul divano mentre giocava ai videogiochi e adesso guardatelo! Dominique, lo sappiamo benissimo che sei stata tu, tu fai questi scherzi, una volta mi è persino ammanettata ad un palo, è normale che sei stata tu, e riconosco, sono le stesse manette, o no? Oh, manette sono sempre manette.. Aiutami! Se continui ad incolparmi, non ti aiuto, ok? Quindi togliti quest'idea dalla testa, non sono stata io, se dico che non sono stata io, non sono stata io.. Stai cercando di uno per l'attividente, sembri un cane.. Ehi, come hai smetterla? Beh, a dirla tutta, se fossi stata io mi prenderei volentieri, il merito di questo scherzo, visto che comunque è molto divertente.. E questi stupidi mattoncini colorati, chi ce li ha messi per terra? Il dottor Timothy, sempre questi mattoncini.. Aspetta un attimo.. Manette? Mattoncini? È stato il dottor Timothy! Ah, quindi non sei stata tu.. Te lo dicevo io! Aspetta, il dottor Timothy.. Il dottor Timothy ti ha ammanettato.. Dominique, che cosa arrivi? Pensi che sia divertente? No, 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 assolutamente no.. Questo significa che mentre dormivo il dottor Timothy si è avvicinato a me e mi ha ammanettato? Ma lo capisci che questo è terribile? Beh, effettivamente non è una bella scena.. Buongiorno ragazzi! Io sono Eric! E io sono Dominique! E che siamo? No, dillo che siamo.. E ti fai male! I di insieme! I di insieme! Ma che ballo era ha ammanettato? No, questo è il meglio del solito.. Ok, basta, basta.. Mi ha ammanettato, ma non mi fermerà mai almeno di ballare.. Ok, il fatto che tu abbia le manette non è poi così grave.. Anzi, detto tra noi è divertente.. Ma io mi preoccuperei più di quello che c'è qui dentro.. Questi mattoncini hanno sempre portato delle strane sfide.. E adesso che cos'hanno? Ognuno ha un foglio bianco con una linea.. Un trattino.. Un trattino.. Un trattino.. Che significa un trattino? Nel mattoncino c'è il trattino.. A me ricorda tipo quei giochi con le parole.. Che facevo quando non ero un arrestato.. I giochi con le parole? Ho capito cosa vuoi dire.. Ragazzi, secondo voi questa qui è una nuova sfida del dottor Timothy? E io? Perché sono ammanettato allora? Se chiedete ad indovinare le parole nascoste nascoste potete chiedervi solo dieci lettere.. Vi basteranno.. Ho ammanettato Eric perché è divertente.. Cosa? Ho due cose da dire.. La prima è perché hai detto nascoste nascoste.. Perché sono molto nascoste Eric.. Ma di nascostosissime o cose del genere.. E poi seconda cosa.. Non è divertente Google.. Non è per niente divertente Dottor Timothy.. Mi spiegate tutti quanti e anche voi Diziemini.. Che cosa ci trovate di divertente nel fatto che io sia ammanettato? No, assolutamente niente.. Non ci trovo proprio nulla di divertente.. Eric non c'è molto tempo per lamentarti.. Come al solito hai risposto con un tempismo perfetto.. E' chiaro.. E' una nuova sfida.. Si ma spiegami perché io non ci ho capito niente.. Mi ero fermato lì quando ho detto nascoste nascoste.. E' abbastanza comica come cosa.. E ti pareva.. Dovresti ascoltare di più.. Ah davvero.. Ma non posso.. Perché ho le manette.. Come faccio ad ascoltare con le manette.. Ti sfugge la cosa.. Ti sfugge la cosa.. Eric smettila.. Guarda.. Togliti dal campo di gioco.. Sto diventando un pazzo criminale.. Come va? Eric la sfida.. Ma io non posso.. Sono ammanettato.. Non posso dare una mano.. Vieni qui.. Vieni qui.. Ti ho solo una mano allora.. L'altra no.. No.. Bene ragazzi.. E' il gioco della parola.. Lo avete presente no? Di sicuro avrete giocato questo gioco almeno una volta con i vostri amici o con i vostri compagni.. Al posto dei trattini vanno le lettere.. E a quanto pare noi oggi abbiamo soltanto 10 tentativi per chiedere al dottor Timothy se una precisa lettera è presente in questa frase oppure no.. Se saremo abbastanza bravi e fortunati riusciremo a scoprire tutto.. Anzi.. Dobbiamo.. Altrimenti avremo perso.. Ma se vinciamo almeno mi libera.. Ah beh.. Questo non lo so.. Non lo ha detto.. Lascia stare.. Eric ha detto che è divertente.. Chi sei tu per contraddire il dottor Timothy? Si ma è fastidioso.. Bene ragazzi.. Si comincia.. Lasciate like a questo video se volete aiutarci a vincere tutte le sfide assurde del dottor Timothy.. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla.. Capito adesso il gioco? Ma non mi ricordo che si chiamasse l'ammanettato.. Dobbiamo fregarci le mie mani cominciano a litigare tra loro.. Svettila.. Svettila.. Che scena di piccola.. Bene 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 bene.. Io sono una campionessa in questo gioco.. Ma giustamente tu dottor Timothy non lo sai.. Ma ci ho giocato milioni di volte.. E' facile.. So come iniziare.. Ovviamente con le lettere più comuni.. Ovvero le lettere che più facilmente si trovano in tantissime parole.. Dottor Timothy c'è la zeta.. Cosa? No.. Non c'è la zeta.. Ma sei completamente fuori di testa.. Ma chi ti ha dato il permesso di parlare? La zeta.. Ma è l'unica lettera che non c'è praticamente mai.. E che mi dici allora di zanzara.. Zoppo.. Zaccaria.. Fenicottero.. Ma nella parola fenicottero non c'è una zeta.. Fenicottero.. Non c'è Erick.. Hai sprecato un tentativo.. Il primo tentativo.. Dovevo usarlo io.. Adesso non parlare senza essere interpellato ok? Dominick qui sono io quello ammanettato.. E' l'unico che ha il diritto di arrabbiarsi ok? Quello che stavo dicendo è.. Caro dottor Timothy c'è la lettera A.. Una delle lettere più comuni.. Casella 9.. Visto? C'è.. Aspetta.. Ce n'è solo una.. E che significa casella 9? Beh.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. E' qui.. Quindi secondo il gioco per come lo conosco io scriviamo una bella A.. Proprio qui.. Perfetto.. Wow.. Adesso si che siamo a buon punto.. Bravo.. Aspetta.. Vado ancora io visto che tu hai già sbagliato abbastanza.. Proverei con un'altra vocale che ce n'è sempre tante.. Caro dottor Timothy c'è la lettera I.. Speriamo ce ne sia più di una.. Casella 2.. 6.. 15.. 21.. 2.. 6.. 4.. Ok.. Ricorda.. 2.. 6.. 15.. 21.. Te la ricordi giusto? 2.. 6.. 15.. 31.. 4.. 5.. 6.. Qui.. Poi com'era? 15.. 15.. 1.. 2.. 3.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 3.. 14.. 15.. I.. 21.. 16.. 6.. 7.. 18.. 19.. 20.. 21.. L'ultima.. Non 31.. No, era 21.. Bene Dominique, adesso si che va molto meglio, allora la frase potrebbe essere ci mangiamo a colazione.. Cosa? Ci mangiamo a colazione.. Ma non ci entra, servono altre lettere e abbiamo 7 tentativi, anche voi ragazzi provate a indovinare, magari siete anche più bravi di noi, scriveteci nei commenti e non barate, non tirate avanti.. Posso io Dominique? Adesso ho capito, devo dire una lettera comune, andrebbe bene la M.. Ok papà.. C'è la M.. Eh? Sono bravo.. Sono bravo.. No, non c'è.. Cosa? Ma.. Ma la M è in tutte le parole più importanti.. C'è chi? Mamma.. Non c'è.. 21 lettere e non c'è nemmeno una M.. Mamma.. Mimmo.. Mucca.. Eric, sei davvero davvero sfortunato, invece di Manette doveva metterti dello scoccio sulla bocca.. Perché? Perché tu ci riesci e io no? Perché? Non preoccuparti, vinceremo insieme, tranquillo, vinceremo insieme.. Vorrei dire così, l'allegando le braccia, ma.. Beh, se solo non ci rimanessero solo 6 tentativi.. Ok, riflettiamo.. Una lettera, una lettera molto comune che potrebbe centrarci.. Beh, davanti una I, potrebbe esserci qualunque cosa.. Ok.. Dottor Timothy, c'è la lettera R.. Speriamo, speriamo, speriamo.. Casella 1, 7, 19.. Sì! 1, 7, 19.. È proprio qui! Questa dovrebbe essere.. Aspetta, la 21, 20, 19.. Sette e un'altra R qui.. Perfetto! Ragazzi, provate a indovinare.. Abbiamo già 4 lettere in quella parola.. Ma cosa potrebbe essere? Riflettereci.. Ri.. Ripo.. No.. Ri.. Ri.. Rimedi.. Roma.. Ri.. Ricucire.. 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 Ci entro.. Bene, questo significa che la prossima lettera sarà la C.. Dottor Timothy, c'è la C.. E allora? C'è o non c'è? Casella 5, 11.. Visto che c'è.. 5, 11.. Ok? 1, 2, 3, 4, 5.. Ricucire allora.. Una C.. E poi 11.. E 11 è qui.. Abbiamo 2 C.. Quindi.. Dominique, non può essere ricucire.. Perché qui dovrebbe esserci un'altra C.. E non c'è.. Oh, forse abbiamo sbagliato qualcosa.. Non è ricucire.. Ma se non è ricucire cosa può essere? Rifocillare.. Riscoprire.. Riscuotere.. Ritorcio.. Ritorsolo.. Ragazzi, secondo voi cosa può essere? Guarda che ho imparato.. Wow Eric.. Concentrati! Non riesco a capire.. Dobbiamo andare avanti.. C'è un piccolo problema.. Mancano soltanto 4 tentativi.. Solo 4 lettere.. Quindi dobbiamo pensare molto bene a quello che chiediamo.. Ma cosa può essere? Non mi viene in mente nulla.. Allora, riflettendo ci sembrano tutti gli effetti.. Una frase composta da due parole e una preposizione al centro che le unisce.. Ehm.. Prima della C.. Prima della C cosa può essere? Beh.. Mi viene di pensare la S.. Quante parole sono con la S.. Come anche la U.. Uccello.. Proviamo con la S.. Sono più fortunata io.. Dottor Timothy.. C'è la lettera S.. E quindi c'è.. Casella 4.. 10.. 4.. 10.. 2 S.. 4.. Ci siamo.. Ci siamo.. 4.. S.. Dai, vicino alla C hai ragione.. E la 10 è.. Qui.. Vicino alla C.. 2 su 2.. Sono un mito.. Te l'ho detto che sono brava.. Visto che sei così fortunata.. Mi dici la lettera che posso dire io.. Faccio finta di averla detta io.. Con la mia testa.. Eh? Ok ragazzi.. Ci siamo.. Dobbiamo assolutamente capire questa parola.. Mancano solo due lettere.. Non riesco a capirla.. Beh, forse se non la leggessi al contrario sarebbe anche meglio.. Vieni da questo lato.. Ri.. Ri.. Si.. Non riesco a capire.. Riuscire.. 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 Riuscire a.. Riuscire sicuramente riuscire.. Riuscire a.. Vuole riuscire a fare qualcosa, no? Anche secondo voi non è così? È sicuramente così.. Perfetto Dominic, lo dico io.. Ok? Dottor Timothy.. C'è la E.. C'è la E.. C'è.. Casella 18.. C'è.. Ma aspetta un momento.. Ma quella non è il numero 18.. Allora questa non è una E.. Questa non è una E.. Non è una E.. Dov'è il 18? La E in realtà sta qui.. Te lo tengo cogliene.. Grazie.. Una E.. E quindi se quello non è riuscire.. Che cosa? Che stai facendo adesso? Brurito.. Ti ricordo che non riesco a trattarmi.. Sono ammaletato.. Che brutta cosa.. Ragazzi.. Mancano gli ultimi due tentativi.. Eppure ero convinta che questo gioco non fosse così difficile.. Voi siete riusciti a capire qualcosa? Se non è riuscire.. Cosa può essere? Ri.. 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 Riusci.. La G.. Aspetta Eric fammi concentrare.. La P.. Riusci.. Riuscirò.. O riuscirà.. Riuscirà.. O riuscirò.. No non è riuscirà.. Abbiamo già detto la E.. Non c'è la A.. Quindi riuscirò.. Non lo so proprio.. Allora gli chiedo la O.. Dottor Timothy.. C'è la O.. Deve esserci.. Per forza.. Casella 8.. 12.. Ce ne due.. 8.. 8 è qui.. Proprio come dicevo io.. O.. E l'altra è qui.. Sco.. Quindi se quello è riuscirò.. Proprio secondo i miei calcoli.. Riuscirò a.. A scop.. A scop.. Scoprire.. Sco.. P.. R.. I.. Re.. No però no.. No è molto più lunga questa.. E poi avevamo già detto una R.. Eric mi raccomando non parlare senza prima consultarci.. Abbiamo l'ultima l'ultima possibilità.. E se non riusciamo a capire la parola abbiamo perso.. Definitivamente.. Proviamo a ragionare.. Riuscirò.. Riuscirò a.. Cosa si può riuscire a fare? Cosa può riuscire a fare una persona? Riuscirò a.. Vincere.. Sco.. Sco.. Riuscirò a.. Sco.. 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 E se non fosse una frase sensata? E tutto questo è stato creato solo per confonderci le idee? Non possiamo saperlo.. Potrebbe anche essere.. Ma questo rende tutto ancora più difficile.. Proviamo a pensare.. Sco.. Sco.. Il tutto che viene in mente.. Riuscirò.. Sco.. Sco.. Scongelare.. Sco.. 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 hallucinatore. Liuscirò a scongiurerei, ci entra.. importante, mothersh call.. atched, non scongeherei, cosa vuol dire.. Eh? Che vuol dire? Niente.. E proprio per questo può essere questa la parola, ci entra! Sco.. N. G. U. Potrebbe davvero essere una cosa così stupida? Non è stupida, ci ho messo tanto a trovarla, ma poi ti sembra facile, sono pur sempre ammanettato Beh, non ci resta che provare, comunque con una lettera in più avremo più possibilità di capirlo, proviamo con quello che hai detto tu, potremmo chiedere la G Caro dottor Timothy, c'è la lettera G, vedrai che abbiamo vinto Casella 16, 17 Ce n'è due, 16 e 17, contiamo, 16 e 17, ce n'è due Aspetta un attimo, quindi non è la parola che dicevo io, scongiurerei, non si scrive con due G, vero? No, direi proprio di no, però non sei stato male, hai trovato due lettere, adesso dobbiamo soltanto concentrarci al massimo Beh, però se non diciamo la frase giusta, lui ci ha sconfitti questa volta, definitivamente Aspetta, pensa Riuscirò a sco-iger-i Cos'è che hai detto? Che ci ha sconfitto? No, ancora no E poi non dovresti essere contenta No, 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 Eric Noi dobbiamo vincere, ti ricordi? Ma cos'è che vuole a tutti i costi il dottor Timothy? Il profumo Sì, sì, ma per avere il profumo deve? Sfruttarselo Oh, Eric deve sconfiggerci, quindi riuscirò a sconfiggervi È questa Riuscirò a sconfiggervi Ci entra Aspetta, ma il merito è mio Oh, Eric, insomma, proviamoci, siamo d'accordo, siamo tutti d'accordo È la nostra unica possibilità, una volta che l'avremo scritta non avremo più chance Proviamoci Scon-fi-ger-vi Una bella V qui Ed è fatta No, manca la U Ah, giusto, dimenticavo Qui è per forza una U Riuscirò a sconfiggervi Aspetta, ma è inquietante questa cosa Beh, lo è Ma penso che mani potrei desiderare che il dottor Timothy ci dica una frase del genere quanto adesso Quindi La frase è giusta perché io riuscirò a sconfiggervi Cosa? È giusta Eh, sì, è giusta Ha detto proprio che è giusta in tutti i sensi Nel senso che riuscirà a sconfiggerci Primo o poi Oh, no, no che non ci riuscirà Tranquilli Dominique, non si stacca Perché non si stacca? Abbiamo vinto e adesso non si stacca Io sono ancora ammalettato Io non ho fatto nulla, non ho commesso niente Sono ammalettato Che faccio? Non ce la posso fare così Dominique è libera Perché non sono di niente? Perché non sono di niente? Dove vado? Qui? Allì Lì Beh, nessuno aveva detto che ti avrebbe liberato D'insieme 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 D'insieme